non solo i browsers si aggiornano ma anche i motori di ricerca su bing è spuntata una nuova interessante novità la ricerca vocale è già attiva anche da noi in italia non occorre effettuare qualche stratagemma basta collegarsi alla pagina iniziale cliccare sull'icona del microfono consentendo accesso visto che è il suo primo uso e dite quello che dovete dire fabio g informatica ecco cosa ho trovato sul web nelle impostazioni di bing sono disponibili due relative voci a questa nuova funzione è possibile scegliere se farsi leggere i risultati della ricerca ad alta voce opzione abilitata per impostazione predefinita e se fornire il consenso microsoft per l'utilizzo anonimo dei dati audio disabilitata per impostazione predefinita in descrizione vi lascio il link della pagina iniziale di bing così provate in maniera spedita questa cosa ios e android big questa chicca l'ha già da tempo comunque vi lascio i links per scaricare l'app fantastica come funziona mettete caso che volete andare di corsa e per digitare una frase lunga lunga su una sassiera mezza rotta vi semplificherà di sicuro la vita dai commenti su voglio un po di commenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti